Ad insospettire gli uomini della squadra mobile della questura di Arezzo era stato un insolito via vai a qualsiasi ora del giorno e della notte. Così, dopo alcuni monitoraggi, è scaltato il blitz che ha portato all'arresto di un 43enne residente in Pescaiola, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono entrati in azione ieri mattina, poco prima che l'uomo operaio ed incensurato si recassa lavoro. In casa sono stati trovati, nascosti tra il soggiorno, la cucina e la camera da letto, vari involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 385 grammi. Dentro l'armadio, invece, in mezzo alle t-shirt, c'erano 6.800 euro suddivisi in banconote da 50 euro, denaro che gli agenti hanno ipotizzato potesse essere provento di spaccio. Per lui sono così scattate le manette.